Ciao, io sono Tommaso e oggi parliamo di Power Beans in DaVinci Resolve. Che cosa sono questi Power Beans? Sono semplicemente delle cartelle che DaVinci Resolve ha deciso di rendere condivisibili tra i vari progetti. Quindi nel momento in cui noi andiamo ad inserire qualcosa all'interno di queste cartelle Power Beans avremo la possibilità di spostarci in un qualsiasi altro progetto all'interno del nostro database e potremo trovare tranquillamente le stesse clip perché si trovano appoggiate all'interno dei Power Beans. Assomiglia un po' al discorso dei Power Grade, cioè delle cartelle condivise per le still all'interno della pagina Color. Se non sapete di cosa sto parlando magari date un'occhiata al corso completo in cui parlo anche appunto della sezione Color molto più dettagliatamente anche con i Power Grade. Comunque, oggi parliamo di Power Beans quindi diamo un'occhiata all'interfaccia di DaVinci e vediamo come attivarle e come utilizzarle. Davanti a noi abbiamo la pagina Edit dove all'interno abbiamo la nostra Timeline, i nostri Viewer, l'Inspector, il Mixer e la nostra Media Pool. È proprio qui che ci interessa andare a lavorare oggi perché la Media Pool è dedicata allo sviluppo e all'organizzazione delle nostre clip suddivise in quelli che DaVinci Resolve chiama Beans. Difatti se noi clicchiamo con il pulsante destro abbiamo la possibilità, anche tramite una shortcut che è Shift-Command-N, la possibilità di aprire, di creare un nuovo bin e di rinominarlo come ci pare. Però nel momento in cui noi andremo a rinominare questo bin e andiamo ad aprire un qualsiasi altro progetto, questo progetto non avrà nulla. Facciamo un esempio, apriamo proprio Test 2. Vedete che le clip e le cartelle precedenti non sono disponibili in questo progetto, ma abbiamo la possibilità di condividere alcune cartelle e renderle fruibili da qualsiasi progetto appunto. Innanzitutto bisogna attivarli questi Power Beans perché vedete che qui abbiamo i bin normali, qui sotto abbiamo gli Smart Beans, se non li conoscete nel corso completo ne parlo approfonditamente e per attivare i Power Beans bisognerà andare a cercare all'interno della nostra barra dei menu superiore. Dopo un po' che utilizzerete DaVinci Resolve inizierà ad esservi abbastanza semplice questo metodo di ragionamento perché si trova tutto sulla barra superiore degli strumenti e per visualizzare qualcosa vi verrà dopo un po' automatico sapere già dove si trova questo menu che state cercando. In questo caso si troverà all'interno del menu di visualizzazione, quindi il menu View, che ci permetterà di mostrare qualcosa o di nascondere qualcosa. In questo caso qui abbiamo Show Smart Beans, di fatti gli Smart Beans sono attivi, ma non è attivo Show Power Beans, quindi andiamo ad attivare Show Power Beans e vedete che appaiono qui sopra ai nostri Smart Beans. All'interno abbiamo una cartella Master, quindi come all'interno della nostra cartella Media Pool classica, ma qui potremo andare a creare nuove cartelle, pulsante destro oppure la shortcut Shift-Command-N, nuova cartella e lo chiameremo ad esempio Intro-Outro. Perché in ogni video che faccio l'intro e l'outro sono sempre le stesse, quindi è inutile che io vada a cercare ogni volta i miei file per andare a recuperarli. Semplicemente creo una cartella Intro-Outro, recupero i miei file qui, li inserisco all'interno della mia cartella, in questo caso i due file sono il mio logo a 25 frame al secondo e il mio logo a 30 frame al secondo con una dissolvenza iniziale e finale. Ovviamente ora potrò inserirli all'interno della mia timeline, ma vedrete la cosa più interessante di tutto è che spostandomi nel progetto precedente, test transizioni, la cartella Power Beans condividerà ugualmente la mia cartella Master con i miei file, eccoli qui, Intro e Outro. Molto semplice, molto intuitivo e indispensabile, soprattutto se avete bisogno di condividere file di questo tipo qui. Mi viene in mente che ne so se siete abituati ad avere un logo in sovraimpressione, se siete abituati ad utilizzare sempre appunto dell'intro o dell'outro, se volete creare una sorta di preset da mettere ogni volta all'interno del vostro video, oppure, molto comodamente, se volete utilizzare anche le transizioni di Messiah, quelle che vi ho mostrato nell'ultimo video, perché queste transizioni dalla versione 1.3, che è compatibile solo dalla versione di DaVinci Resolve 16.1, quindi la beta che c'è attualmente, vi permette di utilizzarle in ogni progetto. È una figata incredibile. Quindi il prossimo video sarà dedicato a come utilizzare le transizioni di Messiah proprio con l'utilizzo di questi Power Beans. Anche questo piccolo tutorial, questa piccola pillola di DaVinci Resolve è terminata, spero vi sia piaciuta come le altre. Se vi è piaciuta ricordatevi di mettere un pollicione verso l'alto e ricordatevi di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti per continuare a vedere un sacco di video su DaVinci Resolve il giovedì. Il mercoledì invece avremo la possibilità di vederci con le videoproduzioni e il martedì sarò in diretta alle 6 e mezzo, tempo permettendo, dipende dalle settimane, ogni tanto salta qualche diretta, ma tendenzialmente martedì, mercoledì e giovedì sono gli appuntamenti su questo canale. A me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao! A me non resta che ci vediamo con il prossimo video. A me non resta che ci vediamo con il prossimo video.